Grazie 1 Dai, dai Fallo Chi ha fatto fallo? Marco ha fatto fallo Ha fatto fallo Ma io non ho ancora capito Non sa che quando va a dirà lo posso comprare Allora, no Eeeh La riga, la riga Non si vede la riga Dai, ragazzi Forza, su Veloce 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 Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. 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 Go. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. che bello. a tutti. 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 bravi. a tutti. 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 bravo Matteo. bravo Matteo. bravissimo. bravo. bravissimo. bello. bella azione. bravo Matteo. bravo Matteo. bella azione. Viva! 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 è bravo, però se mettono la mano è un segno, è un pallo le due mani ha fatto il pallo pensavo fosse fuori, gli ha dato pallo non ci sono dai Gipso giambe, su vabbè, ci devo spostare allora tutti quando avrà cadetto no, devi stare in mobile, perché se no fai pallo se lui non è stato in movimento, fallo, risolvo che gli devi dire devi stare in mobile, allora ti dà fondamento lui era in movimento, fallo, giusto no, no, l'ha fischiato giusto no, l'ha fischiato giusto dai, va bene, va bene, va bene, dai ma tu fallo al 4 ma tu fallo al 4 ma tu fallo al 4 dai cos'è il terzo fallo? 2-1 2-1 tu fallo al 4 va, dai, dai Non darla se non ti guardano, non darla! Non darla se non ti guardano, non darla se non ti guardano! Non darla se non ti guardano, non darla se non ti guardano, non darla se non ti guardano! Dai, bravo, stai, dai! Ma non è colpa di impascati con noi! Non ti guardano, non ti guardano, non ti guardano! Due mani, due mani, due mani! Dai, dai, dai! Bravo! Tranquillo, Folo, non succede niente! Bravo, Folo! Bravo, Folo! Bravo, Folo! Dai, 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 dai! Ti guardano, ci guardano, ci guardano! Dai, dai, dai! Buongiorno Grazie a tutti. Non ho visto cosa ha fatto. Grazie. Non gli ha dato niente, ha dato palla a loro. Grazie. 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 No. 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 Tecnico. 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 Dai Matte. Dai Matte va bene. No. 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 Allora ragazzi su, cominciate a giocare per favore. 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 Entra sempre Marco, che ti fanno fallo. Bravo Marco, bravo Polo. Peccato. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Bravo Marco. Bravo. Bravo. Dai, 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 dai. Marco, dai, 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 dai. Marco, resisti dai. Dai, 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 dai. Bravo, vai, dai. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Va da girare la palla che siete capaci. Dai! Dai, giocate, che se giocate... Minamette uno che li vede il ballo. No, sta arbitrando veramente. Bravo, pole! E' da due, la. E' da due. Vai! Bravo! 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 Andrea, tienila! Bravo! Ballo! Non fare questi palli!! Non fare questi palli, stupidi! Sì, è un fallo stupido quello lì. Sì, è un fallo stupido, bravo Simo! Sì, è un fallo stupido. Che fanno? Che fanno? Non ho capito. Non ho capito. Ho spinto. Ma che fanno o fanno? Non lo capito. Non lo capito, non lo capito. O ce l'ha spinto? Non lo capito. Sì. Sì! 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 Dio Dio! Buonasera! Fai attento alla viga, Marco. Oc 那o si ve, come sei abituato. Dai dai dai. Marco. Cosa abbiamo buttato via? Cosa abbiamo regalato? Grazie a tutti! E' bravo quello, il 53 è forte. Aia, aia Marco, me la caviglia che mi faceva male, porca miseria. Aia, 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 aia. Aia, 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 a Grazie a tutti. 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 Bravo. Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Tenete palla, calma. Un punto, abbiamo un punto ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Ma perché? Perché mancano 30 secondi? Grazie, grazie. Bravo! Tenete la... Tenete la... Tenete la... Grazie, grazie. Grazie, grazie.